dove erano stati spesso e volentieri arrendevoli nel corso del match. Questa invece è stata una partita a bella tosta. L'abbiamo persa perché la durezza che è necessaria mettere in campo non l'abbiamo messa tutti. Questo è il motivo per il quale noi abbiamo perso la partita. Poi tecnicamente direi una percentuale ai liberi assolutamente insolita per noi che siamo una squadra che li tira sempre molto bene, però questo è un dettaglio tecnico. Io nella mia analisi penso più a puntare l'attenzione sul primo dettaglio che mi sembra decisivo. Cioè il fatto che se non sei pronto a fare la guerra con tutti e dieci giocatori poi alla fine trovi sempre un anello debole che lascia qualcosa che poi ti costa il match. E stasera è successo questo. Quindi dal punto di vista generale secondo me rispetto alla gara di sabato scorso un passo avanti importante anche proprio dal punto di vista della voglia, del presiderio, della voglia anche di recuperare un inizio molto complicato. Però questo dettaglio secondo me è un dettaglio che dobbiamo mettere assolutamente a costo perché non possiamo permetterci di avere buchi che permettano agli altri ogni tanto di fare un canazzo che magari può essere decisivo. Grazie. 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 Grazie.